Potrebbe esserci un'apertura verso il consolidamento del palazzo di via Leopardi a Montesilvano. A dirlo è il sindaco Ottavio De Martinis, che alcune settimane fa aveva firmato in via cautelativa l'ordinanza di sgombero per il palazzo denominato Riviera 1, dichiarandolo inagibile. Inoltre lo stesso primo cittadino ha ordinato all'amministratore del condominio di provvedere immediatamente sotto la direzione di tecnico abilitato alla realizzazione di tutte le opere provvisionali di messa in sicurezza provvisoria del fabbricato. Io dal canto mio non ho potuto evitare di emanare un'ordinanza con tanto di sgombero da parte delle famiglie e delle attività situate al pian terreno della palazzina, forte di una relazione tecnica pervenuta che in qualche modo destava perplessità e dubbi legate alla struttura e alla sua sicurezza. Vero è che dall'inizio nella mia ordinanza ho ordinato, al di là di questo sgombero per titolo precautelare, all'amministratore di porre in essere tutte le iniziative volte a ragionare un'eventuale messa in sicurezza. Messa in sicurezza che all'inizio sembrava essere in qualche modo impossibile da portare avanti ma che nelle ultime settimane voci che giungono al palazzo invece è presa in considerazione anche dallo stesso amministratore che all'inizio aveva storto il naso, diciamo così, aveva manifestato contrarietà a questo tipo di azione. Mi auguro che tutto possa rientrare nel minor tempo possibile, che si possa diventare una situazione tale da scongiurare, almeno per il momento, situazioni che possano inficiare lo stato delle cose fondamentali per la stagione turistica e che presto le famiglie, tante famiglie e presto le attività presenti possano ripartire e possano rientrare nelle proprie abitazioni.